Bentornati allo Stagista Podcast. Questa settimana ragazzi sono molto felice di essere lo stagista della Head of Business Development del Financial Times, ovvero con lei che si deve occupare di tenere uno dei giornali più importanti del mondo sempre al passo coi tempi. Lei è bolognese doc, quindi italiana, ha 29 anni ed è Virginia Stagni. Ciao Virginia, benvenuta! Ciao Phil, come stai? Molto bene, tu come stai? Benissimo, benissimo, sempre felice di tornare a Milano. Grande, no, sono molto contento che tu abbia accettato il nostro invito, il mio invito, anche perché tu sei sempre in giro, quindi non è facile anche solo trovare una mezza giornata per incastrare una chiacchierata. Anche tu però non scherzi. No, è stata una bella gara negli ultimi mesi, però ce l'abbiamo fatta, ci tenevo a fare questa puntata con te perché per me, come tutti gli ospiti che cerchiamo di avere, incarni perfettamente quello che vorremmo che fosse lo stagista podcast, quindi una chiacchierata grazie alla quale io insieme al pubblico divento un po' lo stagista delle persone con cui chiacchierò per imparare tutti i segreti del loro successo. Tu sei, facendo un'infarinatura molto rapida per chi non ti conoscesse, classe 93, bolognese doc. Docchissimo. Docchissimo, so che ci tieni moltissimo. E da diversi anni vivi a Londra perché lavori al Financial Times, uno dei giornali più importanti del mondo in qualità di manager sostanzialmente. Se non sbaglio il tuo lavoro è un po' quello di svecchiare quello che è il giornalismo di oggi, cioè renderlo sempre al passo con i tempi. Però vorrei partire da un'altra cosa. La prima volta che mi sono imbattuto nella tua storia, Virginia Stagni, la prima cosa che mi ha colpito è la quantità di anni di studio che tu hai fatto. Tu hai studiato veramente tanto, ti sei veramente fatta al mazzo, hai un percorso di studi bellissimo e quindi voglio chiederti quando oggi, dopo qualche anno che lo fai, ripensi alla posizione che oggi occupi? Sicuramente un po' è talento innato, perché per ogni cosa deve esserci uno, deve essere portato per qualcosa, però quanto è il percorso di studi che hai fatto? Quanto invece è stata magari la tua capacità di metterti in gioco, di rompere le scatole alle persone giuste e così via? Guarda Phil, innanzitutto grazie per l'invito, perché come sai anche per me è molto importante riuscire un attimo a rendere più accessibile sia il mestiere manageriale, sia quello che è il mondo del giornalismo, che viene visto qualcosa dove arrivi in una fase molto avanzata della tua carriera. Mentre a me piace invece raccontare che si può iniziare il proprio percorso all'interno del mondo editoriale anche senza troppa esperienza pratica, perché un po' il famoso learn by doing è quello che caratterizza non tanto il mondo dell'informazione che è costantemente in cambiamento, lo vediamo da questo formato che anche tu hai creato e ovviamente quello che io credo sia importante è rendere accessibile, quindi democratizzare il mondo del giornalismo che viene visto molto elitario e sicuramente come tu dicevi parlare di talento, sicuramente io sono una persona molto curiosa, se c'è una caratteristica che ha sempre rappresentato il mio percorso è quello di andare un pochettino al di là di quello che doveva essere se tu da A vai a B, a me è sempre piaciuto vedere ma cosa c'è in B più e verso C o arrivare con un percorso un attimo diverso. Perché dico che questa è una caratteristica secondo me fondamentale? Perché l'essere curiosi soprattutto rispetto a quelli che sono dei campi, anche campi minati dove iniziare la propria carriera, il mondo del giornalismo non è un segreto che sia un mondo in crisi da un punto di vista economico, da un punto di vista di fondi, da un punto di vista proprio anche intellettuale, è in crisi perché si deve reinventare. Quindi di conseguenza essere curiosi e volere andare un attimo oltre le colonne d'Ercole secondo me è molto importante. Poi, non sono io a dirlo, l'ho detto tantissimi, soprattutto sportivi, una cosa che non hai detto è che sono una grande appassionata di basket e quindi… Posso dire che non lo sapevo? Ecco, vedi. So che sei appassionata di sport perché vedo che vai spesso a sciare, sei anche molto brava dei video che ho visto su Instagram, però del basket non lo sapevo. No, io ho giocato tanti anni a basket e quindi ho sempre seguito, poi anche la famosa saggetta dei giocatori, secondo me un cestista ha un modo un attimo diverso di vedere lo sport di squadra, ma soprattutto rende e perché deve meditare anche molto rispetto a quelle che sono le tecniche sia di gestione di un team, ma anche di gestione di se stesso, gestione dell'imprevisto, gestione della paura. Ci sono tanti aspetti, soprattutto nello sportivo, tanto anche nel mondo musicale, quindi questa è un'altra caratteristica secondo me interessante, di la multidisciplinarità di un percorso che può essere alla fine tradotta anche nel proprio mestiere. E come ti dicevo, talento però c'è tanta disciplina, quindi bisogna anche andare un attimo sui contenuti, quindi le ore di studio o quello che vanno fatti. Io, come dicevi, ho un po' variato, non è che abbia studiato tanto, ho studiato cose diverse. È una cosa che io suggerisco, questo ci rende appunto più curiosi ma soprattutto più preparati su diversi ambiti. Ho fatto studi classici con poi un grande approfondimento perché mi piacevano tanto le lingue antiche, quindi proprio una vecchia dentro. E poi da lì ho fatto economia qua a Milano, economia e management, però dopo in specialistica che andai a Londra ho fatto sociologia alla London School of Economics, però sociologia dei media e della comunicazione. Variare il proprio percorso secondo me è molto utile, ci sono invece quelli che ti dicono, no vai iper specializzato, super verticale rispetto a quello che è il mondo del lavoro. La scuola, nonché anche l'educazione che noi diamo a noi stessi, non deve essere formata per un obiettivo, cioè non deve essere, io devo trovare il posto di lavoro, devo essere, adesso sentivo proprio l'altro giorno Barbero che ha detto, non devo diventare un produttore di questa economia, non deve essere la scuola a formarmi come produttore per un ruolo, ma deve formarmi come persona e questo un po' forse ce lo siamo dimenticati, soprattutto quando studiamo anche, no, che devo prendere il bel voto, no, devo sapere delle cose. E tu in quegli anni lì, tipo quando andavi al liceo, avevi, quindi mi hai fatto intendere che non avevi bene le idee chiare su cosa fare, cioè qual era il tuo sogno? So che volevi fare l'egittologa. Sì, esatto, quindi proprio una cosa completamente diversa. Però pensando alla te, che ne so, anche solo degli anni, cioè quando al liceo pensavi all'università, non avevi veramente la vaga idea di cosa fare, oppure dicevi so che voglio lavorare nel mondo per dire del management, però non so bene in quale campo. Allora io avevo due grandi passioni, più da piccola, come ti dicevo il mondo, Indiana Jones, quindi era una persona curiosa a quello, ma anche perché mio nonno appassionato di minerali mi portava a cercare minerali fossili nelle montagne, quindi c'era un po' questa cosa del piccozzo che mi è sempre piaciuto. Però dici a Bologna, Indiana Jones, è difficile da applicare un pochino. No, quindi dici vai faccio archeologia, poi piacevo molto molto l'Egitto, però quando invece entro in università, perché poi scelgo economia, non vado a fare studi classici o filosofia, che rimane una mia grandissima passione, anzi mi piacerebbe molto tornare a studiare seriamente, però questo è un altro capitolo. Quello che mi ha caratterizzato forse è stato quello di dire, ma sai che ci sono dei campi, soprattutto quello economico, che ti amplia la testa e questo secondo me è molto importante, quando tu sei il tuo massimo potenziale creativo, che tra i 18 e i 30 anni devi ampliare i tuoi orizzonti, perché poi per capitalizzarli hai tutto il resto della tua esistenza e secondo me quell'energia, quella curiosità, quella voglia di fare che hai quando sei giovane e fresco, non ti torna più, perché dopo hai degli altri presupposti e delle altre necessità biologiche, non sociali, eccetera eccetera, che entrano in quello che è il tuo percorso. Quindi poi da lì dico il mondo del giornalismo è molto interessante, perché ho detto non è male, è un mondo in crisi, mi piacciono le sfide e entro in contatto con tanti iscritti della Harvard Business Review che fanno in collaborazione con le scuole di giornalismo, in cui si parla della disruption, del digitale nel mondo del giornalismo e come da un mondo polveroso è stato completamente scardinato dalla tecnologia. Dico ma sai che questo è il famoso sweet spot in a market, cioè quando trovo il mio angolo dolce in un certo senso nel mercato. Cioè tu dici non c'è nessuno che fa quella roba lì, vorrei occuparmene. Non c'è nessuno che pensa a business modeling, cioè quindi la parte di sostenibilità di business per un mondo in crisi, per il mondo dei giornali, perché spesse volte, come sai bene, nel mondo mediatico il creativo si trova anche a dover gestire la parte produttiva, cioè la parte di produzione, la parte più economica e finanziaria e spesse volte non si può pretendere che un giornalista oltre a variare completamente i formati, come deve raccontare la storia eccetera eccetera, vada anche a pensare come capitalizzare sul brand, cosa deve fare come giornale, cosa deve fare come struttura. Ci devono essere delle figure ibride che sanno benissimo cosa significa fare un giornale, ma allo stesso tempo pensano all'aspetto più economico, finanziario, partnership e pensano all'attere. E questo secondo me era un qualcosa di interessante. Quindi qui il piccolo takeaway per la nostra chiacchierata è non fermiamoci a quelli che sono i preconcetti che ci vengono presentati rispetto a un'industria, rispetto a un lavoro, ma pensiamo a noi come persona, che si è formata negli anni con la scuola, con l'idea di non faccio questo percorso perché voglio quel lavoro lì, ma voglio essere una persona preparata su questi campi. Questa preparazione poi noi la mettiamo in pratica al meglio rispetto a dove puoi essere più competitivo, ma soprattutto dove puoi essere più insostituibile, perché questa è la cosa fondamentale sul mercato, è quanto tu diventi insostituibile per quell'azienda, per quel brand, per quel mestiere. Quindi se tu ti crei la tua nicchia diventi più competitivo. E per diventare insostituibile, certo, non esiste la formula magica, però secondo te è un insieme di talento innato, studio… E anche poi la famosa, il talento deve, lo dice anche Seneca, deve incontrare l'opportunità al momento giusto, no? Vorrei soffermarmi un attimo sull'opportunità, perché so che c'è una storia molto bella legata al tuo arrivo al Financial Times. È vero che per arrivare al Financial Times tu hai scritto a una sorta di dirigente, comunque una persona che decide su LinkedIn dicendo mi piacerebbe fare una chiacchierata con te, ti va? Sì, e un secondo passaggio perché così diamo un suggerimento come si fanno queste cose, perché allora immaginiamo persone occupate, anche qualcuno che ci sta ascoltando, e dice ma io voglio fare il lavoro di Phil, no? Quante persone ti scriveranno, quante persone mi scrivono? Tantissime, però il famoso purtroppo egoismo umano ci porta sempre a pensare ma cosa ne porto io a casa rispetto a questa chiacchierata? Io stavo scrivendo la mia tesi di laurea rispetto a giornalismo, sostenibilità economica e esempi sul mercato. Scrivo in maniera molto naturale come si fa quando non si hanno contatti, non si conosce nessuno, come io da italiana a Londra, non è che conoscessi alcuna persona nel mondo editoriale anglosassone, ma neanche in Italia, dire è vero. Avevo solo di buoni contatti con la stampa perché ci avevo lavorato, e dico ma sto scrivendo una tesi, mi piacerebbe avere delle informazioni per costruire il mio caso. Allo stesso tempo però, quando io ero qua a Milano, avevo un attimo già sperimentato rispetto a questo tema. Qua un'altra cosa fondamentale, teoria bellissima ma mettiamo in pratica, dobbiamo essere più americani su questo. La scuola ci deve formare rispetto a quella che è la nostra persona, ma allo stesso tempo dobbiamo anche dimostrare cosa abbiamo formato. Quindi testarsi e avere l'opportunità, cercare l'opportunità e crearla, di creare le proprie realtà in cui si possono fare un po' di esperimenti, ci rende un attimo un po' più pronti quando entriamo nel mondo reale, nel mondo del lavoro. Quindi per un astagista wannabe, in un certo senso, cerca un attimo di fare qualche esperimento prima. Sono appassionato a quello che fa Phil, e forse anch'io da solo nella mia stanza inizio a sperimentare come si mette il microfono, l'audio, come viene. Infatti tornando alla domanda che ti ho fatto all'inizio, dici puoi studiare tutto quello che vuoi, però poi non puoi sperare che l'opportunità cada dal cielo solo perché hai la laurea in mano, il master in mano. No, però secondo me è importante specificarlo perché ora senza fare polemico che cosa, secondo me tante persone anche della nuova generazione che hanno la mia o la tua età pensano che una volta finito il percorso se tu vuoi fare l'amministratore delegato ci sia per dire la mega multinazionale che li ha da aspettarti e dire uh tu sei uscito con 110 dalla mega università allora ecco l'opportunità per te. Tu invece ci stai dicendo che per ottenere quelle opportunità va bene il percorso di studio però conta costruire progetti, crearsi contatti, cioè... Ma poi la cosa fondamentale quanti 110 elode ci sono là fuori? Non sei insostituibile. Non sei insostituibile quindi di conseguenza. Poi c'è sempre qualcuno più smart di te, ma questo lo rimarrà sempre. Però c'è qualcuno che ha fatto esattamente il tuo stesso percorso così variegato, così curioso, così unico? No. E poi qua entra in gioco un'altra parte fondamentale, sapersi raccontare. Cioè qual è lo storytelling che tu costruisci rispetto al tuo percorso. Se tu riesci a dare una ragione al perché da biochimica ti sei scambiato e sei andato a fare finanza e mi dai una ragione processuale di quello che hai fatto, di quello che volevi scoprire, anche in qualcosa che forse sulla carta non ha troppo senso, questo è fondamentale. Quindi non si fa le cose a caso perché voglio sperimentare, sono curioso, deve essere comunque tutto abbastanza, adesso non dico strategicamente studiato perché non è nella mia natura, ma è un attimo raccontare la storia nel modo giusto in modo tale che ci si è formati. Come ti dicevo, l'egoismo che dice ma cosa porto io a casa era il fatto che quando io ho scritto a questi esperti ho sempre detto ho sperimentato quella che è la mia tesi, nel senso ho cercato di creare da zero una startup sul mondo dell'arte e startup mediatica insomma era un giornale dell'università. Però l'abbiamo fatto con un modello di business particolare, abbiamo lavorato lato digitale con una redazione che era sparsa in tutto il mondo perché univamo ragazzi appassionati d'arte in Erasmus, quindi ci permetteva questo di dire c'è una mostra particolarissima a Washington o qualcuno che può andarci all'apertura per intenderci. Cioè comunque tu davanti a queste persone hai spiattellato una cosa molto concreta che funzionava già. Sì, molto concreto, ho detto mi piacerebbe parlarti di quello che io ho scoperto, di quello che vogliono gli under 30 dal mondo dell'informazione. Ci facciamo un caffè, una chiacchierata, così io prendo un'epa, anche tu ci prendi qualcosa, nel senso che hai il tuo focus group per così dire, che è voglio ragazzi, studenti, giovani che legano più il mio giornale per rendere sostenibile il mio modello, perché comunque questo è ovvio, cioè più customers hai, cioè più utenti hai, ma soprattutto più giovani sono, più la loro vita con te si allunga, il famoso, in termini un po' più business si dice lifetime value, quindi più è bassa l'età in cui io raggiungo questo utento, questo cliente, meglio è per il mio business model, più è sostenibile. Quindi questo era un vantaggio, no? E quindi da lì poi dopo, non è che lui mi ha offerto un lavoro, questo anche, tengo sempre a sottolinearlo, ho fatto i miei colloqui, mi hanno detto tre bei no, alcuni suoi sottoposti, nel senso che alcuni hanno detto, no, she's not a good fit, cioè non va bene per noi, un altro mi risposo, perché continuo ancora a dirmelo, sei troppo imprenditoriale, non sappiamo dove metterti, ma you don't fit in this role, poi dopo divento stagista per un'altra parte del business, e poi mi sono creata la mia via. Anche perché immagino che una figura come la tua, quando entra in un giornale, che è un ambiente comunque molto tradizionale, cioè immagino tu l'abbia fatto molto in punta di piedi. Assolutamente. Mi collega a una cosa, tu hai fatto un bellissimo TED Talk, che mi sono guardato qualche giorno fa, in cui tu dici, la redazione del futuro, quindi i giornali del futuro, saranno quelli in cui, al tavolo di una redazione, ci saranno seduti i giornalisti, quindi quelli che raccontano le storie, ma anche poi i manager, che sono un po' le figure come le tue, quindi figure ibride che sappiano mediare tra l'artista, perché in questo caso il giornalista è più un artista, quindi colui che racconta le storie, va per strada, eccetera, e quello che comunque un giornale deve fare, che è anche far tornare i conti. Mi chiedo, il lavoro che tu stai facendo a Londra, in questo momento, in questo preciso momento, secondo te, sarebbe applicabile in Italia, nei grandi giornali del nostro paese? È una cosa che sta accadendo oppure accadrà tra qualche anno e ancora ora non ci stanno pensando? Questa è una bellissima domanda, perché mi permette di abbattere un po' un preconcetto che in Italia non si senta la necessità di una rivoluzione all'interno della redazione e di tutto quello che è il meccanismo all'interno di un'azienda. Cosa intendo dire? Con quello che facciamo all'interno di FT, c'è anche una parte proprio di consulenza, in collaborazione anche con altre aziende, in cui mi è capitato di lavorare con tanti gruppi editoriali italiani e la necessità del cambiamento o comunque un c'è qualcosa che facciamo male o c'è qualcosa che non è così efficiente nel sistema è sicuramente un leitmotiv che io trovo. Questo, quando ti, ovviamente in una posizione di vantaggio come Financial Times se c'è riuscita è comunque un giornale che funziona molto bene ed è un sistema in salute, significa che tutti hanno uno stipendio, è un posto molto sicuro da un punto di vista lavorativo cioè non è difficile pensare a FT come un posto instabile. Sono più i pro che ha portato questo cambiamento che non incontro. Perché c'è qualcosa che è cambiato all'interno della struttura che è proprio quello che quotavi tu. Cioè il fatto di dire non è che la redazione è fatta solo e esclusivamente di talenti editoriali ma hanno avuto la visione di dire il mondo tecnologico il mondo dei dati e il mondo commerciale devono entrare in punta di piedi all'interno di quello che fa la redazione. Che cosa si intende dire? Che se io profilo al meglio il mio lettore perché non lo devo dire al giornalista che scrive per quel lettore la comunicazione all'interno di quello che è il mondo del giornale che non diventa una torre d'avorio dove solo chi scrive gli articoli scrive bene può entrare ma si utilizzano gli strumenti tecnologici ma soprattutto chi li sa leggere al meglio che non sono di certo i giornalisti ma sono i data analyst sono gli ingegneri sono le persone anche da background più scientifici ci permette di avere una redazione o comunque un gruppo mediatico che è politecnico lo dico sempre perché è un termine olivettiano è un termine molto italiano dire politecnia che è uno dei tuoi eroi ho scoperto esatto io adoro anche perché io colleziono macchine da o per scrivere quindi è una cosa che mi piace tantissimo tutto questo per dire che in Italia assolutamente è un qualcosa che dovrebbe ma sarà necessariamente applicato quindi al momento non è ancora applicato al momento trovi alcune realtà che un cui anche noi siamo entrati in contatto che hanno capito che devono farlo e questo è un grande passaggio perché tu andavi già parlo solo di 5 10 anni fa quando io ho iniziato a scrivere esattamente 10 anni fa adesso sono 29 ho scritto i primi testi su questi argomenti che avevo 18-19 anni perché avevo iniziato a studiare il tema e trovavi proprio delle redazioni che dicono ma a noi non ci serve niente il gaming il game cosa ma il giornale va benissimo ma noi siamo il financial time o siamo il ecco quella roba lì non funziona più perché siamo in una società che si chiama la famosa network society in cui non è tanto importante solo e esclusivamente la tua storia il tuo brand ma quello che ti rende più potente in questo sistema è quanti collegamenti hai con altri nod questi famosi questi nodi all'interno di di questo sistema a raggio no e quindi di conseguenza il brand anche financial times o pinturicchio che può essere famoso quanto vuoi non è allo non è più in un oligopolio dell'informazione ma in un mondo fluido la famosissima società liquida di cui parla parlano persone molto più intelligenti di me insomma per chi ci ascolta quando andate a riguardare Bauman che aveva già intuito queste cose decenni fa è molto interessante secondo me pensare che un influencer è tanto importante quanto il financial times in questa network society quando di importanza o di potenza parlo per la raggiungibilità della sua informazione come quando si fa il discorso una volta c'erano sei canali televisivi e l'unico modo per parlare alle persone era andare su uno di quei sei canali televisivi oggi se tu ti apri un canale youtube magari puoi fare uno share che assolutamente in paragone è molto più alto di quello che può raggiungere esattamente quindi se questa è la società ma soprattutto è il mercato su cui non lavoriamo e con cui non lavoriamo cosa fa un giovane quando entra in questo mondo complesso in queste aziende deve innanzitutto comprendere le complessità ma soprattutto portare queste nuove visioni di mondo esterno all'interno ad esempio di una redazione dove le persone che hanno lavorato fino a quel momento erano abituate a dire ma io sono il financial times ma io sono la repubblica ma io sono non funziona più così e lo sanno bene e ci arriveremo sicuramente io sono sempre una molto positiva su questo si stanno già arrivando l'hanno già capito e secondo me si stanno facendo tanti cambiamenti ma tanti tanti lo hanno dimostrato gli ultimi numeri anche del Corriere della Sera insomma sono stati bravissimi anche con un po' di nostro aiuto giusto dirlo giusto dirlo e quindi detto questo sicuramente they are on the right path sapere anche della storia di come tu ti sei proposta al financial times secondo me va anche a sdoganare una credenza che molti hanno e cioè che i grossi dirigenti le persone che stanno in alto che tu vedi come molto lontane non le leggano neanche le candidature perché uno magari è cresciuto come potevi essere tu a Bologna e in una città italiana in provincia dice magari il mio sogno è fare un colloquio andare al financial times portiamo questo esempio visto che la realtà per cui tu lavori ma figurati se mi considereranno mai perché la vedi come una cosa come ha detto il buon Gabriele Vagnato che è stato ospite di una delle scorse puntate lui dice hai l'effetto topolino una cosa che vedi così tanto lontana che non ci credi neanche perché pensi che non esista veramente invece le persone anche grandi dirigenti se tu ti poni nel modo giusto ti leggono ti rispondono ti danno spunti ma assolutamente anche perché non è che si perde il contatto con la realtà del mercato con chi è fuori e chi io devo conoscere se voglio capire meglio il mondo che mi aspetta quindi anche questa cosa di giovane che non viene ascoltato sicuramente è complesso ma non dobbiamo mai sottovalutare la curiosità che ad esempio una persona come me che ormai è da sette anni in questo mondo sei anni nella stessa azienda trova io ricevo tantissimi messaggi su LinkedIn mail o altro alcune io cerco veramente di rispondere a tutti se riesco come mi è possibile però mi è capitato proprio anche qualche giorno fa un ragazzo che mi ha scritto di una sua idea imprenditoriale per leggere in maniera sostenibile il giornale e io gli ho risposto e ho detto aspetta mi scrivi una mail un attimo un po' più elaborata perché voglio pensarci non è che con questo dico a questo ragazzo posso offrire un posto di lavoro domani ci sono però dei modi in cui posso dire a questo ragazzo che vedo che è brillante che ha avuto un'idea un po' particolare che mi ha innanzitutto ha fatto lo sbatti nel senso che non è che mi ha scritto ciao mi interessa molto il tuo percorso possiamo fare 15 minuti di caffè se io dovessi dire di sì a tutti non lavoro più ti sta dando qualcosa no ti dice che poi questo adesso sembra super utilitaristico quello che sto dicendo lungi da me però è un po' più pragmatico come approccio è il mio suggerimento è quello che mi sono accorta che funziona cioè mi ha dato un'idea ma soprattutto mi ha fatto capire che è una persona sveglia e che ha voglia di creare e di pensare cose nuove io ho bisogno di persone che pensano nella mia azienda ma soprattutto nel mio team quindi se con questa persona si mantiene il contatto riesco a elle gli dirò guarda ci sono gli FT Talent Challenge che sono le nostre opportunità di sfidare in maniera un po' più creativa al mondo del giornalismo abbiamo questi hackathon abbiamo delle internship secondo me you're a good fit è il famoso da cosa nasce cosa esatto ma poi ripeto come mi ha detto prima il talento deve incontrare l'opportunità però io devo passare devo essere in stazione quando passa il treno giusto giusto che è una citazione che è è molto ricorrente in questo podcast però è vero come dice Vanzini devi anche aver voglia di andare in stazione per prenderlo questo treno prima di vedere che anzi prima di prenderlo devi andare in stazione per vedere che passi esatto per dare anche un consiglio utile visto che abbiamo citato LinkedIn quando ci si propone in generale qual è l'errore secondo me che le persone fanno più spesso e che si potrebbe evitare facilmente quando ci si propone quando si iscrive quando si vogliono avere delle opportunità perché poi magari ricevi un no ci rimani male e non capisci che cosa hai sbagliato secondo me anche allora innanzitutto messaggi lunghi eterni no cioè uno non riesce a leggere non ha quindi dono della sintesi prima cosa seconda cosa è presentati con un qualcosa che è interessante per il tuo interlocutore se ho capito che lo stesso messaggio l'hai mandato a 20 persone non lo leggo neanche terza cosa è do your homework cioè nel senso devi avere un minimo fatto fai i tuoi compiti per gli italiani in sala i compiti stavo già traducendo ero già pronta cioè devi fare i compiti a casa cioè il fatto di dire deve esserci un senso del perché ci stiamo parlando non solo perché poi ci sono anche i messaggi super genuini di chi ti dice guarda hai fatto un percorso che mi interessa molto it's very inspiring perché io voglio fare questo e questo e questo mi metti le tue carte sul tavolo e ti posso dire ok volentieri se riesco a darti una mano comunque io questo lo dico sempre è anche un po' difficile riuscire sempre a rispondere a tutti perché siamo in tanti però ci sono sempre dei margini sei brava a dire di no visto che vanno detti no nella vita io sono brava a dire di no no non sono per niente brava a dire di no purtroppo infatti questo è un qualcosa dove ad esempio su cui io devo lavorare io sono una yes woman quindi dico sì più o meno a tutto tutte le esperienze essendo una persona curiosa di natura mi dà anche cioè cerco anche col cuore si direbbe sempre di sì ma sì ma poi ci sono anche sai delle altre degli altri momenti in cui mi ritrovo molto in certe persone che mi scrivono io ho sempre sognato di entrare in questo mondo così cos'è non gli dico di sì a far la chiacchierata certo che voglio fare però ecco poi dopo certe volte mi cadono le braccia perché dico non puoi venire qua e non sai neanche che cosa faccio io allora lì dopo mi incavolo nel senso che ho perso tempo ah no ma tu come giornalista allora come trovi non sono giornalista quindi già li partiamo malissimo quindi questo è adesso non voglio sembrare a bitch no 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 però è un discorso che ha senso uno pretende però così come pretendi devi avere almeno l'umiltà e la voglia di fare i compiti come dicevi tu poco fa e poi l'umiltà è la cosa fondamentale cioè ad esempio mi è capitato tante volte di avere io sono il marchese del grillo che dici ma anche no cioè con già un'arroganza subito quindi è sempre in medio stat virtus quindi deve esserci un po' di equilibrio in tutte le cose che facciamo come ci presentiamo eccetera e poi soprattutto fare tanti tentativi io vedo le persone che veramente mollano subito ma io mi ricordo che a parte prima di entrare in Financial Times io ci ho messo un anno e mezzo cioè io ho scritto in un anno la tesi io questo personaggio l'avevo già contratato un anno 18 mesi prima quindi non era una cosa che si subito vieni qua amici prendiamo il caffè ma è un lavoro ma è un lavoro però ragazzi ci vuole anche che tutti dicono però non si danno le opportunità ma questo è vero perché ci sono tante persone che poi non hanno proprio i mezzi neanche per arrivarci però la democratizzazione all'accesso di certi contenuti ma soprattutto di certe connessioni che ci danno i social media sfruttiamole bene però fai un lavoro anche allo stesso tempo cioè deve essere fatto con un'applicazione quindi la dedizione di qui sopra puoi essere anche bravo quanto vuoi ma se non ti dedichi non si va molto in là quindi direi che un po' di spunti utili li hai dati come uno sportivo ci alleniamo no? esatto stavo pensando a quello che avevo detto prima no? Kobe Bryant non è Kobe Bryant Kobe Bryant ha fatto lui dice io faccio un contratto con me stesso voglio arrivare a questa cosa ma sono arrabbiato con me stesso se non ci arrivo no? ma perché è un contratto con me non con le aspettative degli altri o chi devo essere chi voglio essere io però quanto si allenava Kobe Bryant quanto si allenava Michael Jordan quanto si allenano tutti certo l'allenamento nessuno piace fare i suicidi avanti e indietro fare cento tiri tiri liberi però vanno fatti però va fatto visto che io insieme a tutti coloro che ci stanno guardando ascoltando sono il tuo stagista mi porti ci porti in una tua giornata tipo di lavoro al Financial Times ti porti portaci con te in una giornata che inizia immagino la mattina presto magari no sì sì abbastanza presto dipende un po' dalle giornate perché certe volte lavorando sugli Stati Uniti arrivano le giornate arrivano un po' in ritardo nel senso che si inizia alle 12 però dipende no non mi porteresti mai il caffè perché ecco quindi quella è la cosa fondamentale che tu dicono lo stagista ecco no questo non abusi dei tuoi stagisti questo mito no ma mi chiedono semmai se sono impegnata o io lo faccio io per loro certe volte quindi già lì vabbè no allora ti racconto un attimo la dimensione FT perché secondo me è interessante ma è una dimensione che semmai dovessi andare in qualsiasi altra azienda replicherei quindi non è una cosa solo FT però è una cosa che da in più io ho portato io non ho un desk pre-covid quindi sai che avevano invece tutti la propria postazione la cosa io ho sempre creduto che per fare un ruolo come il mio che è appunto ibrido è un ruolo molto di comunicazione è un ruolo dove devi passare con dei problemi e io sono un team o comunque sono un un impiegato della stessa azienda che ti può aiutare a risolvere quel problema devo essere molto raggiungibile quindi io ad esempio ho questo tavolo di lavoro comune che normalmente è quello dove si va per i meeting che è diventato un po' la scrivania di tutto il team cioè tu hai il tuo computer portatile io lavoro solo sul portatile e sono praticamente a lunghezza corridoio nel terzo piano noi abbiamo è proprio il piano di mezzo dove tutti sanno dove sto però è molto di transizione cioè a parte si può sedere chiunque ci sono dei divani e dei pouf simili a questi in tutte le due aree in modo tale che si possa andare che si sappia è come la sede del Financial Times lo dico ai ragazzi che lavorano con noi dopo questo complimento scusa scusa se ti ho interrotto per dire sta cagata però è appena fatto involontariamente però sai che stavo guardandoci che un po' il divanino è un po' simile beh ma immagino che abbiano preso ispirazione dallo stagista podcast hanno visto questo non siamo noi che abbiamo copiato no però per dire anche il colore adesso anche questo no per dire abbiamo l'opportunità di creare quando si entra in ufficio secondo me un ambiente un po' più start-up paro rispetto a quello che ci si aspetta quindi tu arrivi a parte vabbè un building nuovo Bracken House di fronte al St. Paul Cathedral e lo stagista quello che fa si siede con me meeting della mattina e con tutto il team in cui ognuno porta quello che ha fatto il giorno dopo e su cosa lavorerà quel giorno abbiamo ogni settimana all'inizio della settimana una to-do list in cui tutti lavoriamo in maniera orizzontale poi ovvio io fai conto devo gestire un po' di più la parte contrattuale la parte un po' più la parte finale commerciale c'è chi segue i social media chi invece ha un imprinting un po' più di ricerca di marketing lead list però in quel meeting del mattino tutti siete allineati su quello che farete avete fatto quindi parla la tua collega che segue più social media tu dici mi sono occupata di questi contratti eccetera e questo meeting più o meno quanto dura una mezz'oretta circa lo facciamo anche ovviamente caffè però per dire quello che è molto importante il fatto che io non abbia il desk rende e io siedo sulla stessa identica seggiola di tutte le persone del mio team no matter il loro rango in un certo se anche se io sono head off io sto seduta tanto quanto lo stagista nello stesso posto con lo stesso strumentazione con lo stesso tutto è un qualcosa che insomma i simboli sono molto importanti in tutta quella che è la nostra cultura tanto quanto i rituali certo e quindi la ritualità di fare questo genere di meeting tutti insieme seduti ugualmente in uno spazio comune secondo me è molto importante perché l'interno anche chi viene a fare le work experience che sono queste due settimane certificate in cui diciamo che hai lavorato con noi quando stai studiando quando sei a scuola loro sono identici a me e questo secondo me è fondamentale l'orizzontalità del pensiero cioè io ad esempio dico sapete che sto lavorando su questo progetto voglio condividerlo con voi cosa ne pensate come lo miglioriamo come lo miglioriamo quali sono le cose a cui io non ho pensato ci lavoriamo insieme ed è un approccio molto molto collaborativo che raramente secondo me trovi fin da subito quando entri in azienda quindi è poi soprattutto un ambiente divertente cioè io cerco veramente che le persone si divertano quando vengono al lavoro cioè noi dobbiamo sempre ricordarci che pensiamo passiamo l'80% della nostra esistenza media lavorando ma dobbiamo anche fare una cosa che ci piace e non solo per un fine che deve essere esclusivamente i soldi fondamentali però mi devo anche divertire quindi lo devo fare con delle persone simili a me con cui sto bene e il fatto che per me è fondamentale che le persone stiano bene quando lavorano con me e quindi questo porta a una questione anche di intelligenza emotiva di empatia il fatto che per ora negli ultimi sei anni chiunque si è sempre sentito molto a proprio agio anche condividere dei problemi fra virgolette forse un po' più personali con il team e quant'altro ed è un team che è cambiato e cambia costantemente anche molto piccolo alla fine siamo tra 5, 6, 7, 8 persone e vorrei capire poi so che tu non hai la palla di cristallo però sicuramente ne sai più di me e quindi puoi darci uno spunto utile secondo te perché questa cosa in tante aziende non avviene è vero o è un luogo comune la cosa che si dice molte aziende non succede perché sono vecchie però è veramente tutto ridotto a quella roba lì secondo me ci sono altre motivazioni allora io questo ti posso dare solo una visualizzazione del problema da esterna tanto quanto te perché ho lavorato praticamente solo in due aziende cioè ho fatto prima dove facevo la stagista in un'altra agenzia mentre studiavo a Londra e poi ho iniziato e non sono mai andata via dal Financial Times dove alla fine ho avuto l'opportunità anche di costruire un team quindi ho visto delle dinamiche fuori però non ci sono mai stata dentro quindi forse cambiano una volta che sei lì io credo che per alcune persone sia molto importante il raggiungimento di una seggiola di quella seggiola di potere quel fatto di io sono qua lo status sì e tu sei lì no e anch'io mi sono accorta che certe volte è rischioso quando poni non poni così in maniera evidente la gerarchia perché cosa succede che tu hai alcune persone che se ne approfittano del fatto che tu sei disponibile che sei gentile quindi eh ma io il mio lavoro 9-5 quindi alle 5 vado quando io sono ancora in ufficio che non è che vuol dire che se il tuo capo è ancora lì tu devi rimanere però un minimo di approccio più politico in questo senso inteso con capendo le regole e gli equilibri all'interno di un'azienda se tu sei del nostro team siamo tutti ancora lì e sei fra virgolette adesso non dico l'ultimo arrivato però mi puoi chiedere c'è un modo che dopo alcune persone comprendo che se ne approfittano no mi è capitato mi è capitato anche nel mio team che poi dopo le collaborazioni sono andate avanti o meno oppure sono è stato chiarificato che guarda me lo puoi chiedere ma così nel senso ci sta ma ok non è perché io sono cara e gentile che però allora ce ne approfittiamo perché poi dopo chi si prende il famoso dito poi si prende il braccio quindi quel rischio lì posso capire che se ti capita 5, 6, 7, 8 volte dici sai cosa c'è rimettiamo un attimo come dovrebbe essere a posto i ruoli e rimettiamo a posto i ruoli però ci sono dei modi anche molto più sottili di farlo senza senza dover per forza dire non si può collaborare non si può lavorare non si può interagire in maniera più umana insieme secondo me l'ultimo punto che mi è venuto in mente è anche la questione che è più una comunicazione degli obiettivi la cosa fondamentale che rende orizzontale la collaborazione tra persone di esperienze diverse perché poi la seniority che cosa è semplicemente io sono lì da più tempo quindi ovvio che sono salita prima di te ma ci arrivi pure tu non è che lo fanno tutti prima o poi quindi non è la seniority va proprio con gli anni di esperienza quindi già lì è anche ovvio che c'è un problema nella società se uno rimane intern per cinque anni nella società inteso sia società società che l'impresa quindi questo è un altro discorso quello che voglio dire è che per me è sempre stato fondamentale spiegare sempre anche allo stagista il perché delle cose perché se io ti rendo partecipe del motivo per cui dobbiamo lavorare a questo progetto perché vogliamo lavorarci qua come contribuisce al disegno aziendale come contribuisce al nostro obiettivo di azienda quindi ti fa avere un ruolo e ti fa capire che quella roba super rompiscatole di dover andare a fare la presentazione fatta con questi colori oppure fare questa ricerca è strumentale a un obiettivo più grande più grande di tutti noi quindi un obiettivo però che è comune ci permette di lavorare e far capire che tutti stiamo spingendo la nave verso quella direzione quindi la condivisione dell'obiettivo è fondamentale soprattutto quando e questo diciamo a chi ci ascolta che lo puoi e lo devi applicare appena hai un minimo minimo di peso specifico all'interno di una dinamica di team quindi quando tu sei anche un associate un junior eccetera ma per la prima volta avrai uno stagista devi essere tu il primo a farlo fai questa cosa perché se tu condividi gli obiettivi un po' più alti è un livello di affiliazione o diciamo engagement che la persona ha nel lavorare con te che è inestimabile nel senso che ha molta più voglia di fare ma perché ok ora capisco perché sto facendo questa cosa soprattutto è un bene più alto e questo è replicabile in tante altre dinamiche nella politica lo vedi anche nella dinamica di amicizie nelle dinamiche familiari ci sono c'è il fatto della comunicazione delle cose dei grandi in un certo senso anche i più piccoli è molto empowering c'è da molto sta venendo in inglese confidence sta venendo molta cioè ti dà molta più sicurezza e autostima perché ha condiviso con me quello che è l'obiettivo che ha detto il CEO e l'ha detto nel meeting in cui io non c'ero ma io te lo dico e ti condivido anche la mail e ti faccio leggere come scrivere gli obiettivi dell'azienda e poi te li riscrivo io e poi hai capito ok come ci lavoriamo noi insieme lo stagista deve sapere su cosa stiamo lavorando anche il fine ultimo e il fine alto di quello che sono solo il board solo il consiglio di amministrazione ma quando mai va condiviso e ora che tu hai dei collaboratori come li scegli? Qual è il criterio che cerchi di utilizzare? il grande problema si legge tantissimo è che tante volte noi quando assumiamo le persone cerchiamo persone a nostra immagine e somiglianza ed è un bias cognitivo che noi abbiamo molto inconscio come noi scegliamo gli amici come noi scegliamo le persone che ci circondano perché ci devono comprendere e capire dobbiamo scegliere anche simili però ci sono tante citazioni che dicono poi dopo invece per amarsi deve esserci un po' di differenza perché se no bisogna essere complementari esatto esatto come le pile detto questo quindi mi viene da dire che la scelta poi dei collaboratori cerco sempre un attimo di capire se abbiamo dei valori comuni cioè ma foglie diverse cioè le radici dovrebbero essere identiche ma le foglie i rami come si muovono devono essere diverse quindi la pianta deve essere diversa quindi devono portare delle sfaccettazioni ma soprattutto dei punti di vista nuovi che arricchiscono il nostro lavoro perché se io porto tutte persone che sono interessate alle stesse cose mie hanno il mio stesso background culturale gli interessa anche a loro forse di sono curiosi tanto quanto è devo portare un approccio che sia più olistico possibile nella visione del mercato perché questo è fondamentale perché io devo comprendere le persone a cui voglio parlare il più possibile me le devo portare dentro quindi è un meccanismo molto ripeto che va ad appianare chi lavora su un prodotto chi lavora in un'azienda con il consumatore finale li devo portare dentro quindi la diversità per me è fondamentale questo è molto molto importante però non diversità di valori quindi quell'immagine rispetto a le radici sono le medesime ma la pianta è diversa per me è molto importante quando penso a chi lavora con me non posso non chiederti molto interessante secondo me stiamo tirando fuori degli spunti che spero possano essere utili a molti perché l'obiettivo dello stagista deve essere proprio questo non posso non chiederti come hai imparato bene l'inglese perché non so se sei d'accordo io credo molto che noi italiani soprattutto non so se sia così anche in altri paesi in cui non si parla inglese come lingua madre però io credo che noi italiani tantissime volte non è la prima volta che lo dico ci precludiamo anche solo di sognare di avere determinate ambizioni perché crediamo che il limite linguistico sia così tanto grande da essere incolmabile no? in effetti uno potrebbe dire vabbè io per quanto possa parlare bene l'inglese figuriamoci se riuscirò a fare il dirigente in un'azienda così importante in inghilterra tu come hai fatto a impararlo bene o meglio secondo te sono più utili corsi sono più utili e più utile guardare un milione di serie tv la tua esperienza personale in questo caso esperienza personale che quando io sono arrivata a Londra pensavo di saperlo molto bene l'inglese poi quando sono entrata in classe il primo giorno in università ho detto non ci sto capendo una cippa ero proprio così sei diventata una grande ascoltatrice sì sì no ragazzi ma io me lo ricordo io ho il panico perché io mi ricordo che io pensavo di capirlo molto bene ma poi quando avevo certi professori con certe espressioni certi slang ma soprattutto è quello un po' più irlandese è quello super long che quindi ha tutto questo che non capivo niente ma io disperata io me lo ricordo ancora ho detto io non sto capendo nulla non capisco ma proprio non capisco quindi mi ricordo che poi condivisi questo problema con le persone del corso che erano con me e alcuni li vedevo molto più bravi di me rispetto all'inglese quindi ho detto vabbè altri italiani dici sì altri italiani ma anche altri stranieri innanzitutto biased ce l'abbiamo tutti i francesi sono terrificanti con l'inglese tanto quanto certe volte anche gli spagnoli quindi tutto il mondo salutiamo gli amici francesi no ne ho un sacco proprio cioè dici dopo sette anni che sei qua ancora la pronuncia però tutto questo per dire che hai non è vero cioè noi ci abbiamo sicuramente un po' ma perché noi forse l'autocritica ce la insegnano un po' di più siamo sempre stati abituati a dire noi italiani allora innanzitutto io questo già mi fai anticipare una cosa che volevo dire fin dall'inizio l'italiano quando entra in azienda io ve lo dico all'estero ci adorano ha un vantaggio competitivo ragazzi ma le persone italiane quando vanno all'estero sono le persone più sveglie con cui ho mai lavorato a parte che c'è una ci capiamo culturalmente ma lo dicono anche a parte c'è un'ammirazione soprattutto negli Stati Uniti o quando vado a New York ma delle persone italiane che hanno perché c'è anche quello stigma che noi abbiamo del cazzone no? che vogliamo togliere quindi le persone che vanno fuori e hanno questa sfida dentro di dire no sai che c'è adesso ti voglio dimostrare che io ci arrivo e do un esempio quando io ero nella primissima azienda io me lo ricordo ancora un director della comunicazione di una grande agenzia di comunicazione appunto di PR inglese mi disse e questo io lo dirò io ripeto sempre perché sapeva che volevo andare a lavorare in un giornale mi fa questo è un lord inglesissimo mi fa with this accent and your Italian behavior you will never work in a newspaper mi fa quindi con questo accento ma soprattutto con il tuo atteggiamento la tua attitudine italiana non lavorerai mai in un giornale ovviamente si riferiva a un giornale inglese è famoso tamo salutiamo anche lui salutiamo anche lui caro lord inglese un caro saluto no vabbè no però però per dire non è quello immagino ti abbia anche dato una voglia la depressione oddio dopo devo andare a non so non mi ricordo mi guardo 500 volte magic english della disney non lo so per migliorarmi non è così cioè quella non dobbiamo farci abbattere da questi commenti da queste cose perché assolutamente invece a me ha dato una spinta in più pazzesca per migliorarmi ma lui aveva ragione ragazzi lui aveva ragione io con quell'accento che c'avevo e quella ma non mi calcolerei neanche io ma se uno mi si presenta con quella inglese che c'avevo io ma anch'io non lo prendo neanche io e quindi cosa ho fatto vai a tu ascolti immersa totalmente cerco di migliorarmi ma adesso queste cose i corsi non i corsi bisogna viverli i posti bisogna anche prendere dei modi di fare di una determinata cultura la lingua non è solo esclusivamente un modo di espressione verbale è tutto un universo di segni quindi la complessità del non comprendere certi atteggiamenti o certe battute perché non sei immerso nella cultura è il tempo tempo ed edizione punto allenamento solo quello non è ci si può arrivare ed è una cosa fattibile poi ovviamente con un po' di passione ma soprattutto un po' di cavolo ce la devo fare perché voglio veramente raggiungere questo obiettivo quindi non mollare la presa la prima volta che dico mamma mia non ce la faccio non capisco eccetera eccetera perché amo troppo l'italiano no si riesce e tu sei l'esempio vivente che si può fare no ma si fa io vi ripeto vi ripeto io non capivo una caspiterina di niente quando arrivai a settembre 2015 in quella classe di LSI me lo ricordo ancora c'era questo professore Nick Coldry che aveva una pronuncia per me inaudibile e io sono stata un'ora così ho detto io qua non so come faccio un esame perché poi erano anche esami scritti orali io come faccio però dopo vabbè uno si deve un po' arrangiare si fa le nottate si ascolta non è tanto Netflix radio tutto quello che vuoi io mi ricordo andavo in classe registravo lo registravo e mi ascoltavo la stessa classe tre quattro volte fino a che non iniziavi a capire le parole capisci poi dopo hai le slide un ausilio il libro di test fai ok capisco di cosa sta parlando ma era proprio è l'abitudine nell'allenamento tutto sta nell'allenamento ma veramente ma lo dico veramente perché è così su tutto su una performance fisica lo è su un qualcosa mentale la meditazione questo ci insegna ad esempio a gestione delle complessità dei pensieri è l'allenamento ti faccio un'altra domanda che è giusto fare secondo me a una persona ambiziosa come sei tu secondo te qual è il modo giusto di porsi sul lavoro con l'ambizione perché tantissime volte quando uno è molto ambizioso passa sempre come quello che vuole strafare quindi come un obiettivo un ostacolo un qualcosa da eliminare se invece però nascondi troppo la tua ambizione insomma una cosa che io tipo ho imparato sul lavoro è che tantissime cose per ottenerle devi chiederle quindi devi avere anche la voglia di dire io credo di meritarmi quella cosa quindi la voglio e quindi questa è l'ambizione qual è la linea sottile da non oltrepassare qual è il modo giusto secondo te per porsi ma che uno faccia un lavoro d'ufficio che faccia il camerino in un ristorante a qualunque livello allora innanzitutto l'ambizione è diversa dall'arroganza quindi la linea di confine è quando una persona ambiziosa diventa arrogante cioè quello che pensa di saperne più di te quindi dovrebbe avere quel ruolo dovrebbe fare quella cosa se non ci sei ci saranno delle condizioni sociali di mercato quello che vuoi che non ti fanno arrivare lì quindi abbassiamo la cresta come si dice e fatti il tuo percorso l'ambizione però invece va assolutamente mostrata perché è quel quid di energia in più che non tutti hanno ci sono alcuni che dicono ma a me va benissimo fare il mio lavoro dalle nove alle cinque io sono tranquillissimo io dopo la mia grande preoccupazione andare in palestra uscire con gli amici il lavoro non è qualcosa dove trovo la mia massima espressione di me che è una visione del lavoro e della vita totalmente accettabile totalmente accettabile per me non è da giudicarsi quello che però invece è se sono una persona ambiziosa o che ho voglia di fare che è lo devo mostrare perché innanzitutto è una fonte di energia nuova che porti è una nuova linfa vitale che porti al sistema e la linea di confine non essere arroganti cioè esprimere i propri desiderata andare dal proprio capo e dire guarda che sai che quel progetto che stai seguendo su ne abbiamo anche mai capitato recentemente sull'e-commerce mi piace tantissimo posso darci un'occhiata ogni tanto mi mandi qualche mail che leggo guarda mi interessa proprio poi se hai dei capi o delle cape intelligenti capiscono che aspetta ho una mano in più su questo progetto prendi lavoriamoci insieme e dal fatto di lavorarci insieme di aver mostrato che tu sei una persona curiosa ambiziosa che vuole fare di più che vuole go for extra mile noi diciamo cioè si dice sempre andare un po' oltre ti permette secondo me di esporti o almeno di essere in quella sfera energetica chiama come vuoi in cui più opportunità ti passano davanti perché hai mostrato una disponibilità una apertura alla fine il mondo è fatto di tante percezioni e tante decisioni vengono prese in base alla percezione che io ho di te come persona una è nei primi venti secondi in cui ti incontro perché l'attention span di una persona è nei primissimi venti secondi quindi è una questione di chimica pelle cosa fai cosa non fai linguaggio del corpo quindi ascolto grande ascolto della persona che io ho di fronte e come devo mostrarle al meglio il mio potenziale quello che potrei essere perché tu non è che in un mezz'ora di colloquio anche solo quando ti presenti a un lavoro puoi mostrare tutte le tue ambizioni che vuoi essere il next CEO di Luxottica che ne so ci arriverai però ti posso assicurare che nei tuoi trait cioè nel tuo codice del DNA per una persona che sa ascoltare le nota certe cose quindi piuttosto che tenertene dentro e nasconderle saperle esprimere con classe ed equilibrio piuttosto che con l'arroganza solita che certi hanno secondo me è molto 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 utile quindi va assolutamente fatto però va fatto con equilibrio è quella cosa che dicevamo prima la misura questa domanda mi è venuta in mente perché prima quando ti sentivo parlare quando dicevi quando lavoravo per questa agenzia quindi non ancora nel giornale il mio capo sapeva che il mio final goal sarebbe stato quello quindi molto banalmente è un grande insegnamento quello di far sapere dove vuoi arrivare perché tantissime volte secondo me sul lavoro si ha la paura di dirlo invece questo è un ottimo spunto l'abbattimento della paura ti deve sempre venire che tu devi pensare che quella persona non è il lavoro che rappresenta quella persona si chiama Virginia che ha 29 anni è una ragazza che ha questo suo percorso ed è un umano se tu umanizzi sempre le persone che hai davanti a teatro ad esempio quando io cantavo mi dicevano sempre immagina la persona che ti fa più paura nel pubblico completamente nuda che ti ascolta così stravaccata in vasca piuttosto che vedertela ninja che cravatta che si sta esaminando questo è un'estremizzazione ma per dire che quella persona che hai di fronte è una mamma è un papà con tutte le sue preoccupazioni con tutto il suo universo di segni e di mondi complessi lo umanizza se tu umanizzi la persona che hai di fronte gli dici ehi tu sei il mio capo in quel caso io mi ricordo che perfettamente dissi a questo director quando lo incontrai poi lo incontrai a scuola che venne a fare una talk gli dici sai che a me piace molto l'idea che lei ha portato del futuro della comunicazione del potere delle public relations per i brand ma avete mai pensato al potere delle public relations per i giornali? cioè chi lancia l'informazione come si presenta come brand no è un'idea interessante io ho detto guarda io sono appassionatissima di giornali piacerebbe lavorare parlarne con lei di questo argomento caffè anche lì poi dopo ho fatto il mio interview eccetera eccetera ho fatto iniziare l'intership nel team di strategi di questa agenzia di comunicazione però non mi facevano lavorare sui giornali perché non li avevano come clienti io andai da qui e mi dice ma posso fare quella ricerca che ti avevo detto poi te la mostro e ne parliamo insieme tutto questo per dire che è lì come mostri la tua ambizione e fai vedere quello che ti piace bello veramente bello tantissime volte Virgi quando raccontano la tua storia mi sono visto sì dai beviamo un po' stiamo chiacchierando da un po' però almeno per me è molto interessante questa chiacchiera sto imparando molte cose tantissime volte quando si racconta la tua storia sui giornali nelle interviste eccetera eccetera noto una cosa si parla solo dei grandi risultati del responsabile dello sviluppo di business del financial times quella che ha fatto il master a Londra questo quest'altro non si parla mai dei sacrifici non oso neanche immaginare quanti tu ne abbia fatti mi dici qual è stato il sacrificio che poi hai fatto sicuramente volentieri che però ti è pesato di più nel tuo percorso chiamalo come vuoi il momento buio il momento più triste però ce n'è sicuramente la pista ce n'è sicuramente stato uno ma anche nel mio percorso potrei citartene tantissime chissà quanti altri ce ne saranno assolutamente allora la vita è fatta di scelte quindi certe volte prendi dei plus da un lato e poi ovviamente ne perdi dall'altro perché appunto è importante però saper scegliere è molto più deleterio per il tuo percorso non saper scegliere l'indecisione e quindi l'inettitudine l'inerzia è forse proprio quella che è la fine di tutto e di un proprio percorso quindi quello già è importante da capire poi dopo uno deve riuscire a fare forse con un cuore un po' più leggero certe decisioni e deve buttarsi deve buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo e deve secondo me anche sperimentare pensare che vivi una volta sola e le cose belle poi accadono anche rispetto ai sacrifici che hai fatto sicuramente ad esempio io non mi sono mai divertita tanto quando ad esempio ho fatto sia il liceo che l'università perché ho sempre voluto fare troppe cose e soprattutto a livello tanto di studio poi appunto come dicevo giocavo a basket poi facevo anche musica perché io studiavo canto quindi mi interessavano più le cose del mondo e forse mi sono dedicata un pochettino meno alle cose semplici come a coltivare non per questo non coltivo le amicizie assolutamente anzi per me non potrei vivere senza i miei amici però forse ho vissuto meno l'adolescenza ho vissuto un pochettino meno gli anni dell'università in maniera totalmente spensierata anche perché sai certe volte io avevo anche molto il peso quando sono arrivata qua a Milano che ero con la borsa di studio dovevo lavorare quindi io comunque ho sempre lavorato mentre studiavo quindi per me non è che avessi tanto tempo libero e il tempo libero l'ho sempre investito in maniera molto coscienziosa e quindi forse il sacrificio mio è stato non andare tante volte in discoteca e fare la vita che uno di 20-21 22 anni dovrebbe fare normalmente fa sì questo forse questo forse un po' ma non è di certo un regret però cioè non è non è una cosa che dico cavolo se avessi fatto di più le serate adesso sarai una persona migliore sicuramente ho perso forse un po' sono delle scelte cioè se io il giorno dopo mi devo svegliare alle 6 della mattina per andare a lavorare non posso andare in discoteca fino alle 4 lo faccio una volta ogni 2-3 mesi questo sì però non per questo non mi sono divertita quindi andavo al jazz club piuttosto però stavo in mezzo dei vecchi però dove facevo una cosa che piaceva a me quindi questo poi vabbè figurati stare fuori dall'Italia stare non stare più a contatto con i miei amici dovere ipercomplicare le mie relazioni nel senso che sempre persone che viaggiano girano siamo tutti sparsi però è quello che rende secondo me tutte le persone che mi stanno intorno tutte persone molto curiose che ho poi ho genuinamente voglia di spendere il mio tempo c'è una cosa bellissima che ho letto recentemente in un libro che dice che noi dobbiamo pensare al nostro tempo come anche con un costo orario e quindi noi dovremmo spendere il nostro tempo in maniera molto coscienziosa con persone che sono per noi di lungo termine cioè non devo investire il mio tempo orario con persone che riconosco che possono accompagnarmi nel mio percorso di vita quindi di certo vado con persone e frequento persone che hanno fatto i miei stessi sacrifici e so di cosa sto parlando e quindi di conseguenza ci capiamo e forse i sacrifici che abbiamo fatto soprattutto a livello temporale ci permettono di enjoy way more e proprio gioire molto di più del tempo che si sta insieme però i sacrifici vanno fatti lì si fanno sempre poi sono delle scelte certe volte dico forse se stavo qua a Milano avevo una vita un po' più comoda invece in futuro dove ti vedi? visto che abbiamo parlato di ambizione voglio chiederti due domande secche sia qual è il tuo final goal quindi il grande obiettivo della tua vita e soprattutto se in futuro ti vedi più se se me lo vuoi dire se puoi dirlo se magari l'hai già l'hai già visualizzato e soprattutto se in futuro ti vedi più in Italia oppure a Londra New York all'estero allora final goal della vita bella domanda perché è una domanda un po' filosofica no? cioè quindi quando uno forse va a letto alla sera e dice ah qual è la mia ragione d'essere se uno se uno ha il tempo di farsi questa domanda però certe volte cerco di farmela però soprattutto la faccio quando sono in aereo perché sei totalmente disconnesso e dal momento in cui scrivo anche il mio il mio journal eccetera final goal di vita proprio è riuscire a sperimentare e fare più cose possibili cioè nel senso a vedere più mondi possibili e a conoscere più cose possibili ed è una ci credo molto a questa cosa cioè che non è tanto voglio viaggiare voglio andare a Go a Bali bello sì però mi piacerebbe sicuramente quello da fare viaggio fondamentale male non fa ecco no no perché dei viaggi dovrebbero cioè a me piace viverli come vorrei stare con i locals voglio stare con le persone di quel paese voglio conoscere le loro aspirazioni cioè cosa vuole fare questa persona quando si sveglia la mattina e quali sono le sue visioni del mondo secondo me c'è un aspetto molto detto da una persona che fa un ruolo come il mio quindi manageriale fa un po' così però molto spirituale che mi piace tantissimo esplorare cioè le domande che si pongono le persone e cosa li spinge a fare le cose questa per me è una cosa molto 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 interessante che mi piace mi piace dire che quando sono vecchia se ci arrivo ne ho scoperte tante e ho tante storie da raccontare quindi alla fine dici ma tu vuoi farla giornalista allora no perché queste cose le vorrei tenere proprio da applicare all'interno di quello che è uno spaccato della società che è l'azienda cioè il fatto di dare una ragione d'essere anche a tutte le persone che si esprimono con il lavoro ma che sono anche felici e quindi comprendere secondo me di più gli umani con cui convivi con cui condividi dei momenti della tua vita per me questa è una cosa che ti dici qual è il mio obiettivo è quella cosa lì è proprio conoscere conoscere più cose possibili perché secondo me poi dopo c'è la fine qua e per te questa cosa la metti davanti a qualunque obiettivo lavorativo titolo è proprio un obiettivo da essere umano più che la Virginia in carriera ma tanto cioè quello arriva nel senso che secondo me se continui a spingere su quello spingi su quello poi dopo cioè mai sia che uno quando ha 40 anni ha fatto già altre cose e dice ma sai che adesso io prendo e vado cerco tanto l'energia che hai la passione e la voglia di fare per una cosa la fai anche su altre dice adesso voglio scrivere un libro a me piace molto scrivere tu ne hai anche scritto uno dreamers who do molto bello non l'ho letto devo essere sincero eh no perché non ce n'è mai stata l'occasione però apprezza la mia sincerità avrei potuto fare il conduttore ipocrita che dice beh sì l'ho letto un libro veramente interessante sai come quando ci sono nei programmi televisivi spesso i libri in promozione li hanno letti tutti cacchio anche se ne promovono dice il giorno come non è materialmente però quello è un libro molto business quindi è molto sul futuro dei media e come si porta uno spirito imprenditoriale dentro l'azienda quando si inizia la propria carriera quindi è molto da stagista quindi ci sta in linea però uno dice guarda vorrei mettermi a scrivere più di perché no cioè quello secondo me è più poi vabbè invece sull'aspetto lavorativo se dovessi dire qual è il mio obiettivo è quello di creare nuovi posti di lavoro perché alla fine questo dovrebbe essere il fine delle aziende creare nuovi posti di lavoro e quindi di conseguenza sostenibilità eccetera eccetera per le famiglie per l'azienda ecco quindi questo è la mia che poi torna a cerchio alla tua prima domanda quali le caratteristiche eccetera per me la curiosità e quindi io sceglierò sempre anche fra virgolette un dialogo un po' più difficile un confronto difficile o conoscere persone un po' più particolari rispetto alla cosa un po' più mediocre e noiosa quindi sempre dove ci va un po' più di lavoro però almeno ci porto a casa qualcosa io che non so questo è fondamentale quindi vedi cosa ci cosa ci si guadagna e che conosco qualcosa in più e l'altra domanda che mi hai fatto invece è dove mi vedo in futuro più in Italia o all'estero più in Italia o all'estero allora nel brevissimo forse ancora estero però me la stai facendo in un momento un po' difficile nel senso che a parte perché ultimamente dal 2022 ho lavorato tra Londra e New York quindi sto facendo un pochettino avanti e indietro come dimostrano le mie occhiaie e quindi dico cavolo ma qua sei proprio al centro del mondo dove puoi conoscere tutti gli umani però è anche estenuante nel senso che alle volte poi vabbè Londra io ad esempio ci sono quasi da otto anni New York adesso aver fatto questo avanti e indietro me l'ha fatta anche conoscere già abbastanza bene il fatto di rientrare in Italia non è che non ti permette poi di sperimentare tutte quelle cose e se le cerchi quindi alla fine ho anche compreso che la linea spazio-tempo una volta che hai ticcato il fatto di essere stato fuori e hai dentro di te quella voglia di uscire non è che secondo me che se rientri in Italia non ti puoi più esporre a quel genere di esperienze quindi adesso vediamo nel prossimo anno cosa accade anche perché nel 23 significano per me i 30 quindi secondo me sarà un momento un po' di cambiamento anche perché entrano in gioco altre dinamiche altre necessità a me interessa sempre sapere chiedere a tutti gli ospiti dello stagista alle persone di cui divento stagista qual è una loro passione che nessuno conosce visto che sei bolognese doc anzi doc 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 come dicevamo all'inizio non è che adesso esce fuori che sei campionessa mondiale tipo di ragù alla bologna innanzitutto qual è il piatto più bolognese è il ragù o c'è qualcos'altro che lo so i tortellini i tortellini ecco qua proprio già cioè perché me lo fai dire che non sono bravissima a cucinare no nel senso sono bravissima a scaldare il vasetto in freezer di mia nonna che sia a Bologna e delle tagliatelle quello è no vabbè non sono campionessa assolutamente però secondo me se mi applico anche di vedi il risultato se mi applico no nel senso non ho mai dedicato troppo tempo alla cucina quindi un'altra passione di cui magari non parli mai pubblicamente non ne abbiamo parlato tanto però per me il jazz è una delle grandissime mie passioni è il blues quindi vabbè io canto da sempre ho sempre cantato mi è sempre piaciuto ma non c'è stato alcun momento della mia vita in cui farò la cantante perché no beh a New York di club jazz ce ne sono veramente tanti no però continuo continuo anche a Londra a canticchiare ogni tanto e anche a suonare con piccoli gruppi così però è una cosa molto che è una sfera della mia vita che pochi conoscono ad esempio pochissimi miei amici mi sono mai venuti a sentire cantare perché è proprio una cosa che è una cosa mia ma non lo dico a nessuno ad esempio non mi imbarazza per niente però è talmente una cosa mia che faccio più per me e perché poi sto insieme a della gente totalmente random cioè che non conosce che trovi lì alle jam session che sono jazzisti blues rockettari gente che va lì dice ok cosa ci porta iniziano a fare un giro o di chitaro qualcosa e dice vabbè questo è inizia a cantarci sopra e quindi l'arte dell'improvvisazione è meravigliosa ti insegna tantissimo lato business gestione del caos di situazioni non gestibili la musica e soprattutto il jazz è una cosa un po' mia è una cosa che non cioè mi è capitato raramente con persone molto speciali di condividere delle cose che ho registrato ho cantato ho cantato qualcosa per loro o per altri cioè può essere proprio un livello di una super nicchia di confidenza cioè di confidenza tale però non invito neanche i miei amici a sentirmi a cantare a Londra e qual è un album o un artista jazz che chiunque dovrebbe conoscerci o meglio che una persona che si avvicina a quel genere lo conosce poco dovrebbe secondo te scoprire ascoltare allora il mondo jazz è molto difficile da comprare ma un nome cioè noi finiamo questa chiacchierata io vado su Spotify no vabbè allora il mondo blues e le voce eccetera eccetera blues jazz Etta James non si può non conoscere beh chiaro è anche un po' più mainstream però a esplorare certe discografie degli anni 20 degli anni 30 anche proprio entrando entrante in Spotify lasciatevi rapire da determinati sentimenti che esprime il jazz esprime il blues e troverete il vostro percorso musicale non mi va di dire ascoltati quell'album ascoltati Miles su questo perché è veramente è più lasciati guidare da dove ti porta quel genere e cosa ti sta esprimendo perché il jazz è la vera espressione del caos che abbiamo dentro e lo rende un caos calmo perché è un disordine armonico quindi trova l'armonia nel disordine delle cose ed è secondo me un'ottima rappresentazione della complessità che tutti noi abbiamo che cerchiamo sempre di razionalizzare con sono un manager no il mio lavoro è fare il produttore no il mio lavoro è questo e ci mettiamo dentro degli schemi quando l'umano non è nato per stare dentro degli schemi perché è un animale sociale e quindi è fatto di complessità la musica jazz soprattutto riesce ad esprimerti questa complessità tramite le note tramite un'armonia meravigliosa che la maggior parte delle volte è improvvisata quindi va a sentimento bello prima di passare alla domanda finale che te l'ha lasciata l'ospite della puntata precedente non posso non chiederti di condividere con tutti coloro che ci ascoltano e guardano il consiglio migliore che hai ricevuto nella tua vita da un tuo mentor o che magari ti ha dato qualcuno involontariamente un personaggio di un film una persona famosa in televisione però è un consiglio che ti ripeti ogni giorno e che ti ha trasmesso tanto che se non sei bravo a fare qualcosa non devi smettere di farla perché non sei bravo a farla perché anche nel tuo non essere bravo ti può insegnare tanto l'imparare a non essere bravo tutto questo cosa per dire che ad esempio io ero una schiappa diciamolo in maniera molto chiara ho giocato tanti anni a basket ma ero una schiappa a giocare a basket mentre mio padre era bravissimo è stato bravissimo è stato un giocatore è stato anche un allenatore appassionato eccetera eccetera però benché lui non volesse che io cominciassi a giocare a basket e io invece ho insistito perché mi piace altrimenti tanto io avevo la passione di Michael Jordan quindi vabbè io vivo per questo uomo devo assolutamente giocare anch'io però mi ha sempre se ti spinge tanto voler fare questa cosa il fatto di imparare che non sei brava ti rende molto più umile nella vita e soprattutto ti appiana su altre cose che è quel passo indietro che mi permette mi auguro sempre di non avere mai arroganza quando faccio le cose perché sono stata dall'altra parte dove ero la schiappa e continuo ad avere queste cose in certe volte quando suono il pianoforte che non sono per niente brava rispetto a più o meno come cerco di fare quando canto mi sento uninetta il pianoforte ad esempio ti insegna che è difficilissimo e proprio il fatto di sentirsi netti ti spinge un po' a dare di più su altro che bello tra poco ti consegnerò questo quaderno sul quale tu lascerai una domanda per l'ospite della puntata successiva intanto però ti faccio una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente e cioè qual è il personaggio storico con cui vorresti andare a cena oh mamma oddio adesso qua personaggio storico con cui vorrei andare a cena adesso faccio un super cliché io andrei con Socrate subito perché so che mi smazzolerebbe tante di quelle domande che io non sono mai riuscita a fare e quella è la prima cosa che gli diresti proprio appena aprite il menu ordinate deve iniziare la conversazione ma tu non mangerebbe qual è la prima domanda io cosa gli chiederei io non saprei cosa che è tipo bella barba no stavo pensando ti giuro me l'hai rubata sarei partita solo ma è proprio vera questa barba avrei fatto così sarei andata molto sul materiale perché so che la conversazione sarebbe andata molto sull'intangibile mettiamola così no forse di chiedere no veramente andrei molto sul fisico basta sì Virginia adesso noi ti consegniamo quel quaderno quindi sarà tutto nelle tue mani però intanto è stato un grandissimo piacere non essere il tuo stagista per un giorno Virginia Stagna lo stagista podcast ciao grazie mi ha fatto molto piacere ciao ragazzi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti